E ciao a tutti ragazzi, io sono come ben saprete il vostro caro e amatissimo Eletro16 Oggi siamo in un video della Minecraft SCP E si, è un video un po' particolare perché sto ancora registrando con il coso, il tablet Perché dobbiamo risolvere, devo risolvere un problema, un'app di registrazione Sì, ho avuto alcuni svariati problemi Però tranquilli, fra almeno una, due, tre settimane, anche di meno Sparando numeri a cazzo, forse potrei riuscire a risolvere il problema E intanto raga, mi è ritornata la super velocità dello schermo Perché come ben saprete, prima se n'era andata, ora va super veloce Posso fare, ta, ta E siamo in un nuovo mondo, perché quello di prima Se leggete i miei post community, è letteralmente esploso Non so cosa sia successo Ma ogni volta che entravo nel mondo Mi faceva uscire Intanto qua c'è un ender chest Con tutti gli oggetti che sono riuscito a recuperare Che sono, vabbè, la motosega E tutte le cose Eh, sì Eh, no, aspe Cinque E ho anche una freccia con l'arco che gli ho messo infinità Della torcia e... Vabbè, degli oggetti Ho anche... Allora, stavamo dicendo che... Mi sono preso tutta la roba Ho la SWAT che... Mi indosso E anche bella forte I token I token Allora, voglio vedere E infatti non ho sbloccato la loro conoscenza Quindi, direi di fare una cosa del genere Sblocchiamo la conoscenza di tutti i token Vabbè, quello del BatGhost Non c'era perché... Sì, non lo so perché Quindi direi questi Li metto qua L'ultimo che era quello della scorsa volta Abbiamo tutta la roba Anche la SWAT Però Noto che non abbiamo la K-Card Quindi Noi Intanto ho trovato questo laboratorio gigante Che si spawna in giro per il mondo Ma direi che non lo vediamo oggi Vediamo un po' come... Come si manifesta Ok È buio Via, via Non è un... Andremo una prossima volta Quando anche avremo una... Direi di andare dall'SCP di oggi Che ho deciso ed è Questo qua Sperando anche che trovo qualcosa O più là ci sono anche Delle zucche Che sono Più rare del diamante Così dice la wiki Infatti siamo anche in una vecchia versione di Minecraft Siamo nella F2 No, che cavo ho fatto F3 Nella 1.12 Punto 2 con Forge Sempre se... Ok Allora stavo dicendo che è Qua c'è la cella con l'SCP di oggi Che nel fondo c'è un'acqua Però è tipo bagatina C'è che... Che cos'è? C'è... Mi sa che quello è il... No, quello mi sa che è un materiale... Vabbè Buttiamoci Ok, siamo vivi C'è anche qui Stavo dicendo che l'SCP di oggi è il 538 E il 538 E il 538 mi sa che è... Dall'immagine Fammi vedere È il... Anche dalla cella È il ragno d'ombra Sì è il ragno d'ombra Mi sa era Vabbè, il label lo prendo come sempre Devo a... Che per chi non lo conoscesse Il ragno d'ombra è un ragno C'è l'ombra di un ragno Qua c'è roba Però c'è una keycard C'è una torcia elettrica Vabbè La torcia elettrica già l'abbiamo Direi Lì c'è uno scaffale Dimmi che... Ok, no C'è il token C'è il token Raga, siamo in una situazione un po' critica Perché qua richiede una chiave Noi le keycard Non ce l'abbiamo Io come entro Se spacco Ho paura che libero l'SCP Come entro Ditemi voi Entro da qua Perché io la cella la conosco Infatti Anche se non l'abbiamo mai vista Ehm... Sì è Ehm... No! Non entriamo più nella cella Qua che carta richiede Level 2 Ma tu creeper Cosa ci fai? Ma perché? Qua che cosa fa? Ah, questo Mi sa che è spawnato un creeper Allora Sono tornato a casa Ma solo Che poi in realtà Non ce l'ho una casa Per mettere Il portale Perché così almeno posso uscire No, tu non mi hai visto Intanto qua possiamo il token E vabbè Il label Possiamolo qua Tranquilli Raga Io non so come possiamo fare La sperimentazione Perché noi non abbiamo una chiave Io la chiave Come la crafto? Chiave La posso craftare Guardate C'è anche una chiave Chiave blu La chiave La omnicard Ma Allora Una di livello 1 Una di livello 1 È facile Vabbè Questo Lo capivamo Quella di livello 2 Diciamo che è sempre facile Quella di livello 3 Ok Quella di livello 4 È impossibile Quella di livello 5 Pure questa È impossibile Noi Raga Come Sperimentiamo L'SCP Se apriamo la po Che poi richiede pure una carta A livello 4 Va bene Va bene È molto Molto È molto Intanto Qua è note Vabbè Io poggerei qua Anche Questi Rientriamo Sperando anche che Qualche mob Non entri Vabbè Devo trovare un modo Per entrare Ma devo evitare Che loro escano Loro noto Questo Noto Ah ecco Guardate Quello eh Noto che si arrampicano Quindi Anche se io dovessi Riuscire a entrare E tappare Sarebbe un po' Un casino Comunque Allora Io faccio una cosa intelligente Entro Spero che non uscite Se uscite Ok Eccone uno Ok Va bene Eccone uno Lo posso prendere Sì Eccolo Guardate Ecco Questo è Lo shadow spider Allora Per chi non lo conoscesse Sono dei ragnetti D'ombra Che praticamente Questi qua Se vanno troppo In contatto Con la luce Scappano Vediamo Sì Scappano Infatti Infatti ho notato Che qua La luminosità È poca In che modo È stata Strutturata Tale cella C'è C'è C'ha Vabbè Sta laggando Oltre a questo C'ha La doppia Coso Ma Va bene Allora Stavo dicendo Che c'ha il doppio coso Di grata metallica Va bene Riprendiamo i blocchi Chiudiamo qua No Devo Devo chiuderlo bene Dai Lo so che Oh Allora Loro non fanno nulla Scappano dalla luce Guardate Se io tipo Illuminassi Qua si sono Mi sa Messi Però Non li attacchiamo Illumino un po' La cella Vabbè Loro scapperanno Poi gliele toglierò C'è Si Amano arrampicarsi Soprattutto questo Però Alcun Quelli che stanno sopra Non scappano Va bene Togliamo le torce Ritogliamo tutte le torce Senza evitare Ovviamente Di attaccarli Però mi sa che Spariscono No In realtà No Sono Sono Si Vanno tutti Allora raga Togliamo anche questa torcia Mi sa che Vabbè Si Direi raga Di fare La prova Dov'è un ragno D'ombra Eccolo qua E' un po' Pazzo Sgravato Direi raga Togliamo anche L'armatura Di provare A dargli un pugno Gli ho dato un pugno Mi E' diventato Mi sa aggressivo Perché mi sta seguendo Aia Mi ha fatto Mezzo cuore Ora i ragni Mi sa che scappano A Ok Ho lasciato Infestation Ma ha fatto Mezzo cuore Di danno E poi Mi ha dato La shadow Infestation Se io li illumino Con la torcia Elettrica Questi scappano Comunque Si 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 Vediamo Un po' Si vedi Vedi che scappano Allora io Raga Qua c'è la shadow Infestation Noi Allora Se minecraft Ovviamente Non laggasse Io direi Di uscire Instant now Ok Di andarci A rifugiare Sempre Se Riuscissi Qui Qui dentro Comunque qua Shadow infestation Non sta facendo Niente Non sta facendo Nulla Qua che cosa Ah qua dice SCP 538 Vabbè la torcia Elettrica la lascio qua Che tanto Ce l'ho E raga Secondo me Questa shadow Infestation Dopo un po' Diventa Peggiora Tipo Cioè Io ricordo Questo Poi non so Voi Intanto vabbè Ho anche l'arco Con l'infinito Ehm Però va bene Non sta ancora Facendo nulla Raga facciamo una cosa Io Taglio Quando qualcosa Riprendo Quindi ci vediamo Fra poco Neanche a dirlo Raga allora Ho fatto un po' Di spostamenti Ho spostato il portale E mi ha dato Aggressione E lentezza Quindi ora Sono un po' Più lento Ehm Allora io Il portale Lo devo spostare Il portale Lo metto Qui E Raga Se dovessi morire Morirò Qua Cioè Se morirò Non lo so Però comunque Aggressione Aggressione So che Ok Sta laggando Però comunque Aggressione Da quel che so Ti fa attaccare Un'entità Involontariamente Tipo ad esempio Io sto puntando Col puntatore Un maiale Ho l'effetto Di aggressione Mi attacca Il maiale Così Alla random Intanto Si deve anche Sbaggare Il minecraft Però abbiamo Questi effetti Ok Si è sbaggato È successo qualcosa No Ehm È successo Una cosa Qua mi ha scritto Devi nasconderti Nell'ombra E Oltre a ciò Avevo Una caterva Di effetti Mi è arrivata Si è tolta Quei due Mi ha dato Nausea E debolezza Però Devi nasconderti Nell'ombra Nell'o Aspetta Vabbè Avevo preso Un secchio Devi nasconderti Nell'ombra No No Mi devo nascondere Dove Dove sta buio Tipo Qui Ehm Va bene Dove Dove Posso trovare Dell'ombra Qua Qua Non succede Nulla Aspetta Provo a togliere Ok E a mettermi Togliamo anche questo Ok Non succede ancora niente Tolgo questa lampadina Che sta nausea Ti Ok Ora sono completamente Al buio Mi ha tolto Nausea Mi è passata La nausea Se vado Se vado A dove c'è la luce Ho la nausea Se sto qua Me la toglie Se metto la lampadina Torna No No Togli Togli Ok Adesso stanno diventando un po' più interessanti Ho preso un secchio Perché non ce l'avevo Però ho ancora questi effetti Se vado alla luce Ho la nausea E devi nasconderti nell'ombra Questo è successo dopo che mi sono preso il secchio Ma se io anche vado pochino Cioè Da qua Da questo bloc Ok Ok Sono morto Ho visto co Ok Ehm Sto cliccando Non mi fa rinascere Proviamo a uscire Aspetta Rinasci Non mi fa popo Vabbè raga Quitto Rientro Ok Allora Sta laggando Tantissimo Perché Per entrare Ehm Ce n'è voluto di tempo Però Almeno Almeno Ci ha fatto entrare Non che Ce lo permetta Ok Siamo entrati Ehm Vedi Liquido Non si vede nel video C'è uno strano liquido Ok E avevo visto Per un istante Dei ragni d'ombra Quindi mi sa Che sono spawnati Dei ragni d'ombra Possiamo spaccare Sì Qua c'è tutta la roba Quindi adesso Ehm Direi di entrare Minecraft Ok Grazie mille Ehm Oh Che non è assolutamente pericoloso C'è un secchio Ma Questo penso sia sicuro Vabbè Facciamo una luce Ok Raga Sono riuscito A prendere Il liquido E si chiama Ombra liquida Ehm Non ricordo che su Minecraft Sappiamo tutti quanti che Su Minecraft Esiste L'ombra liquida Eh Sì Lo sappiamo sicuro come la fame Guarda Guarda Allora Intanto mettiamo le lampade Lag Collabora Oh Qua sta C'erano Quindi Allora Mettici di parlare Oh Grazie Allora Da quel che abbiamo capito C'ho ancora la torcia elettrica attiva Spegniamo la torcia Oh Lag comunque non ci vuole far parlare Ma ormai questo abbiamo capito Raga Da quel che abbiamo capito Io parlo Vabbè Da quel che abbiamo capito Questi ranni Sono neutrali Non fanno nulla Fino a quando Tu non li vai a disturbare Ho perso i pantaloni Neri Ehm Ah Ecco Dov'era Sì Era nascol Eh Siete monelli Noi Allora Noi abbiamo visto Tutto quello che fa Da quel che abbiamo capito Sono neutrali Ma se li vai A rompere Ti ammazzano Eviterei di farli uscire Per carità Per benevolezza Dobbiamo Tappare Tutta la cella Però È un po' rotto Oh Allora Non si può andare avanti Non andiamo avanti Perché Qua ormai Non si può fare Più nulla Perché Il lag È una persona Orribile Da quel che abbiamo capito Se muori Non ti fa Respawnare Ma che vita Di me E 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 Erda Quindi Io raga Da me E E E E Tutto Ciao E Niente L'ombra liquida Me la tengo E Ciao Ciao